il marzo di pazzo si mangia, si bevola ma mica potremmo venire al cuocino io non sto capito la nuova puzzammo sempre la scuola andiamo a riferire e fai tutta la nonna ma possiamo venire a tutto quanto? ma pure con me a tutto pure io come va? ecchi di mira poco a qualcuno mi vuole che succede ci hanno organizzato una festa ci hanno organizzato una festa per nuova i sette luglio è un po' di corso bello fino a ora siamo sapati che nessuno ci si è mai cagato non capite niente qua ma non sei contento quando facciamo venire a tutti quanti qua siete tutti in Italia la festa del sette luglio sul corso dal palo di Venafro per una serata dedicata a noi Venafro di Venafro per fare la giubata nana vanna uno te può che c'è che